musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi parliamo velocemente della sfida numero 6 dei 14 giorni di fortnite una sfida molto molto difficile ragazzi quella che ci chiede la mia aspetta quella che ci chiede di prendere i nidi d'oca sono questi sono i nidi d'oca ragazzi vicino all'acqua il primo è vicino all'andeletali come vedete dove c'è il bordo andiamo subito a vedere l'altro il numero 2 ragazzi invece si trova nel laghetto vicino a palmetto paradisiaco vi faccio vedere nella mappa eccolo qua ragazzi capirete benissimo qual è ci dobbiamo avvicinare ovviamente al bordo ed eccolo qua ragazzi proprio sotto di noi il secondo nido d'oca ci avviciniamo nido numero 2 preso dobbiamo spostarci molto per il numero 3 ragazzi siamo sempre vicino ai corsi d'acqua e ai laghetti di palmetto paradisiaco ecco qua ragazzi lo state vedendo quello tra lande letali e palmetto atterriamo c'è già un altro che lo sta prendendo di prepotenza eccolo qua ragazzi forza 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 scendiamo anche noi qua molto rapidamente molto rapidamente nido numero 3 preso location numero 4 ragazzi bisogna andare sempre dove c'è il deserto e come state vedendo ragazzi il punto esatto è vicino a questa montagna ci avviciniamo ragazzi e sotto di noi eccolo qua ragazzi troveremo il quarto nido d'oca ragazzi vediamo se riusciamo a prenderlo prima che ci accorga di noi questo qua è che ci spari speriamo di no lo andiamo a prendere anche noi ok preciso killami numero 4 preso si torna a lande letali invece ragazzi per il penultimo nido di oche dobbiamo andare dove c'è il laghetto ovviamente dall'altra parte rispetto al fiume è facilissimo lo sapete benissimo anche voi ragazzi e in questo angolino come vedete ci sono già altri avversari si potrà andare a recuperare il nido numero 5 ragazzi oh yes ultima location ragazzi si trova vicino a pinnacoli pendenti non serve che vi apro la mappa lo riconoscerete benissimo ragazzi dove c'è la fine del fiume o meglio l'inizio dove c'è questa piccola cascata che da sul l'ex bacino bucato chiamato da poco sponde del saccheggio ragazzi troveremo ai nostri piedi l'ultimo nido d'oca che ci interessa direi che lo prendiamo ci suicidiamo e guardiamo insieme ragazzi il regalo che verrà dato per questa giornata numero 6 dei 14 giorni di fortnite prendiamo un pochettino di materiale giusto per fare una scala abbastanza alta andiamo a prepararla di qua vediamo se riusciamo è sempre di più difficile crepare che che rimanere vivi su fortnite porca vacca ci buttiamo da questa altezza dovrebbe bastare direi di sì ragazzi torniamo in lobby ce lo guardiamo assieme intanto vi ricordo pollicione in su se vi è piaciuto questo video iscrivetevi in tanti in tanti al canale e il nostro premio eccolo qua ragazzi il nuovo la nuova schermata di caricamento noi ci vediamo fra poco in live ciao 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 ciao